Il Comiso in trasferta domenica sul terreno dell'Aci Catena, contro una squadra che ha già dato dei dispiaceri alle formazioni blee, avendo battuto sia il Vittoria sia, domenica scorsa, il Modica. La squadra verde-arancio, reduce dal pareggio casalingo contro l'Atletico Catania, prova a superare la delusione per una vittoria accarezzata fino ai minuti finali e sfuggita poi per un gol realizzato nei minuti di recupero dai catanesi. Per la gara di domenica, Borgese dovrà fare a meno di Bohemia, che sconta la squalifica, mentre è ancora da recuperare Tumino, reduce dalla botta subita domenica scorsa, che lo ha costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco. L'attaccante però dovrebbe essere in campo al fianco di Cinirella. Il Comiso in attacco ha poche alternative. Può contare su Brugaletta a mezzo servizio perché il giocatore, a causa degli impegni universitari, si allena solo due giorni la settimana e la condizione ne risente. Il giovane Carfì invece dà tempo fuori squadra per accertamenti clinici. La società sta cercando un altro attaccante per avere delle alternative in attacco. La classifica per ora dà ragione ai verde-arancio che hanno come obiettivo finale la salvezza. Ma il campionato è lungo ed insidioso e non si può dormire sugli allori.